Lo stadio comunale di Pomezia ha ospitato una partita di calcio molto particolare. Sul terreno di gioco si sono affrontate infatti le formazioni del centro di urno riabilitativo H4 e della Enrica Stim, la squadra della Cicala e la Formica Ollus. Il centro di urno, attivo da diversi anni a Pomezia, è una struttura sociosanitaria semiresidenziale specifica per pazienti psichiatrici che necessitano di un trattamento quotidiano integrato ad un progetto riabilitativo più complesso. Il tutto volto al recupero di capacità individuali, relazionali e sociali, idonee a sviluppare livelli di autonomia funzionale adeguati all'inserimento socio-lavorativo. Tra le attività svolte è anche lo sport ed in particolare il calcio, con una squadra allenata da Claudio Mazzetti, infermiere del centro stesso. I ragazzi si cimentano in partite di calcio a otto, come quella giocata con la selezione della Cicala e la Formica Ollus, della presidente Carla Mariani. Gli incontri hanno lo scopo di stare insieme, socializzare, fare gruppo e divertirsi, al di là del risultato che è sempre di parità. Stavolta la partita è finita con un pirotecnico 12 a 12. I ragazzi si sono impegnati tantissimo mostrando sano agonismo, ha dichiarato alla fine la coordinatrice del centro di urno riabilitativo H4, Carmela Palmieri. La cosa più bella è vederli contenti e soddisfatti, così come alla fine lo siamo noi operatori. Il nostro impegno e la fatica nel tenere insieme il gruppo viene ripagata ampiamente dai loro sorrisi, ha concluso Palmieri.